Camila Giorgi ha centrato la finale all'Inz Austria, 250.000 dollari, veloce indoor. La 26enne di Macerata, numero 32 del ranking mondiale e quinta favorita del seeding, finalista nell'edizione del 2014 perse dalla Pliskova con tanto di match point, ha abbattuto la belga Ellison van Wittbach, numero 56 del ranking mondiale in 276364. Grazie alla quarta semifinale stagionale Camila era già sicura di ritoccare il best ranking da lunedì sarà infatti almeno numero 29, scavalcando Maria Sharapova.Rivali, nell'altra semifinale si affrontano la tedesca Andrea Petkovic, numero 82 del ranking mondiale, in gara grazie ad una wild card, che ha regolato per 61-63 la francese Cristina Mladenovic, numero 48-8, e la russa Ekaterina Aleksandrova, numero 119 del ranking mondiale. Proveniente dalle qualificazioni, che a sorpresa ha eliminato per 6-3 e 7-5 la connazionale Anastasia Pavukenkova, numero 35 Uta e sesta te.